Sono Michelangelo Russo, portavoce del Movimento 5 Stelle di Montesarchio, gruppo che si è fatto promotore di questa lodevole iniziativa. In cosa consiste l'iniziativa? A luoghi del cuore. Innanzitutto è un censimento che viene realizzato dal Ministero dei Beni Culturali e con il contributo fornito dal FAI, FAI, il Fondo Ambiente Italiano, con cadenza biennale, censimento realizzato a partire dal 2003. L'obiettivo essenziale di questa iniziativa è la valorizzazione storico-artistica-culturale del patrimonio italiano. Sotto questo punto di vista l'obiettivo è fondamentale? Quello di sensibilizzare gli stakeholders, in pratica chi sarebbero la società civile e le istituzioni, al fine di nutrire interesse, quindi valorizzare quello che è il patrimonio storico-artistico e culturale del paese nel quale si vive. Il FAI, sotto questo punto di vista, che cosa fa? Oltre a garantire quella che è un'attività di promozione e comunicazione, quindi di pubblicizzazione dell'iniziativa stessa, consentirà anche di erogare, se vogliamo, alle imprese che si posizioneranno tra i primi tre posti inseriti in un'apposita gravatoria stilata, in questo caso appositamente dal FAI, di poter beneficiare di un finanziamento a fondo perduto. Quindi, quali sono i requisiti e i relativi criteri che vanno rispettati per poter accedere a questo finanziamento? Innanzitutto, è necessario che le richieste pervenute rispettino quelle che sono determinate tipologie previste nel regolamento del FAI. Le tipologie previste attengono a un progetto di restauro, a un progetto di gestione, alla eventuale rimozione di ostacoli che possono potenzialmente ledere quella che è l'integrità del luogo del cuore oggetto di valorizzazione, attività di promozione e valorizzazione in generale, nonché appunto la promozione di un progetto o di lotto di un progetto. Quindi queste sono le cinque tipologie previste. Le richieste pervenute verranno sottoposte a quello che è il vaglio di una commissione appositamente istituita che si costituisce dei componenti del Fondo Ambiente Italiano, del Ministero dei Beni Artistici e Culturali Italiano, nonché di quello che è un componente regionale in relazione chiaramente a quelle che sono le regioni appositamente coinvolte in questa iniziativa. In che modo si andranno a valutare, o meglio, in che modo si valuterà quella che è l'ammissibilità delle candidature, che perverranno ovviamente al Fondo Ambiente Italiano? Allora, bisogna considerare sette parametri diversi. A ogni parametro si farà riferimento a un punteggio massimo stabilito. Per un ammontare complessivo di 100 punti, per poter essere inseriti in gravatoria, è necessario arrivare a una quota minima di punteggio vari a 40 punti. Quali sono i parametri di riferimento? Anche perché l'entità del contributo varierà in relazione a quella che è la rilevanza e l'ammontare complessivo del punteggio riconducibile a ogni specifico parametro. Innanzitutto abbiamo iniziato a promuovere questa iniziativa attraverso una raccolta firme. Raccolta firme che è stata promossa dal nostro gruppo e che abbiamo potuto integrare, sostenere ulteriormente grazie al prezioso contributo del forum dei giovani, del comune, delle relative associazioni di categorie e quant'altro. In poco tempo siamo riusciti a raccogliere un ammontare complessivo di firme pari a 400. Per poter essere inseriti in gradatore è necessario raggiungere quantomeno il minimo sindacale che è rappresentato da 1.000 firme, ogni 1.000 firme corrisponde a un punto. Quindi questo vuol dire che 2.000 firme 2 punti, 5.000 firme 5 punti, fino al punteggio massimo di 20 punti complessivi. Poi bisogna fare riferimento ad altri parametri, per esempio la qualità del progetto. Sotto questo punto di vista, per poter delineare quello che è un progetto in questo senso valido, prestigioso, è imprescindibile il contributo da parte della sovrintendenza. Non a caso abbiamo avviato un'attività di profigua concertazione anche con la dottoressa Domega, la direttrice del Museo Caudino, con lo stesso sindaco, quindi abbiamo coinvolto i relativi tecnici e le istituzioni che possono in questo senso consentirci di raggiungere il più elevato punteggio possibile. Altri parametri ne discono a quella che è la valenza storico, culturale, artistica o naturalistica del luogo del cuore oggetto di valorizzazione. Un intervento significativo e duraturo, benché circoscritto chiaramente al luogo del cuore considerato e soprattutto per le realtà piccole come Montesarchio, considerando che purtroppo ci troviamo a dover competere con realtà artisticamente più blasonate rispetto a noi, un parametro particolarmente pregnante rappresentato dalle partnership. Che significa? Significa che per noi è importantissimo poter beneficiare di quello che è il contributo economico proveniente da enti privati. Vedi per esempio società, attività commerciali, imprese che avranno a cuore questa iniziativa e mostreranno sensibilità con l'obiettivo di sostenerla economicamente o finanziariamente. Tra l'altro questa cosa risulta essere ulteriormente promossa e stimolata anche da una particolare normativa che prevede la detratazione del 65% dell'ammontare complessivo del finanziamento delle imposte. Quindi a titolo puramente semplificativo, sul 100.000 euro il costo reale che graverà sul bilancio dell'impreso della società che elargisce questo stesso contributo sarà di 35.000 euro poiché il restante 65% verrà detratto dall'ammontare complessivo delle imposte. Quindi questo a grandi linee è il progetto. Per cui ci tengo a specificare che si tratta di un'iniziativa apolitica. Quindi non ha nessun colore politico e interessa quello che è l'universo dei cittadini di Montesarchio. Per cui, ripeto, è un'iniziativa lodevole quanto ambiziosa. è imprescindibile poter contare sull'apporto fattivo, costruttivo di tutti. Quindi in primis dall'istituzione comunale, le relative associazioni, lo stesso forum dei giovani che si sta impegnando molto per sostenere questa iniziativa, la Prologo e quant'altro. Quindi in consuntivo non ci resta che, metaforicamente parlando, buttare giù dalla torre divisioni e pregiudizi, gettare il cuore oltre l'ostacolo. Facciamolo per noi, facciamolo per Montesarchio.